Marco e Soleil Uomini e donne Gossip, Marco e Soleil hanno trascorso la notte insieme Ormai ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che Marco Cartasegna e Soleil Sorge si stiano frequentando, e la prossima mossa della corteggiatrice italo-americana potrebbe essere proprio quella di mollare Luca Onestini in diretta E il vero scoop di oggi è che ancora una volta la Sorge e Cartasegna hanno trascorso la notte insieme, nello stesso locale e con la stessa gente E ci sono le prove sui social, sulle stories di Instagram, ma anche molta gente pare li abbia visti insieme La notte milanese di Marco Cartasegna e Soleil Sorge. La scorsa notte, Soleil Sorge e Marco Cartasegna erano insieme a una festa, e non una festa qualunque. Era infatti il compleanno della sorella di Marco, Marta Si può notare tranquillamente Marco con camicia blu notte ripreso in console e in discoteca da Soleil in una delle sue Instagram story, nonostante la ragazza abbia tagliato la testa di lui per renderlo, così pensava, irriconoscibile Peccato che, guardando invece le Instagram stories dell'extronista milanese, lo si vede ripresa la stessa console e la stessa camicia. I due si trovavano al Baci Cornelia, un locale di Milano In mattinata, se Marco non ha pubblicato nulla, Soleil ha mostrato una padella con dei toast in preparazione e della musica in sottofondo e perché un'inquadratura così stretta? Si sono chiesti molti Stero della colazione. Forse per non mostrare la cucina, che molti potrebbero identificare appunto come quella di Marco Cartasegna? Soleil non vive a Milano bensì a Roma, dunque inevitabilmente non è in hotel e qualcuno la sta ospitando Se è una sua amica, perché non riprendere tutto come fa sempre e puntare l'obiettivo su un semplice toast? La cosa è fatta per attirare l'attenzione? Sembra proprio di sì Senza contare che c'è anche gente che sostiene di aver visto Soleil sorge nel paese di Marco Cartasegna, anche se ci sono solo testimonianze e non prove video. Il mistero insomma si infittisce, ma secondo noi una cosa è certa Lunedì sera, quando incontrerà finalmente Soleil sorge, Luca Onestini a nostro avviso non passerà affatto una bella serata e non credete anche voi, amici lettori? Ciao